Il servizio sui contagi da coronavirus In Molise altri due ricoveri in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso 26 i nuovi contagi, sentiamo i dettagli nel servizio di Pierluigi Borangine Ancora due persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso in malattie infettive Il trasferimento di due pazienti di cerce maggiore, i degenti in Contrada Tappino Salgono a 11 tutti nel reparto diretto dal dottore Donato Santopoli 26 invece i nuovi casi, 6 a Monte Falcone, altre tanti a Trivento Dove il sindaco Corallo invita la prudenza perché, dice, i cluster riguardano i giovani 339 i tamponi dei fertati, tasso di positività al 7,7%, 24 i guariti, 236 i casi attualmente positivi Sia all'obbligo vaccinale e alla terza dose, così il Premier Draghi in conferenza stampa insieme ai ministri Speranza e Bianchi L'uso del Green Pass verrà esteso, ha aggiunto da Palazzo Chigi, ribadendo l'invito a vaccinarsi Un atto verso se stessi e gli altri, ha poi aggiunto E a proposito dei vaccini, sabato a Isernia l'Open Day vaccinale presso l'Auditorium Unità d'Italia dalle 8 alle 20 saranno somministrate mille dosi a coloro che si presenteranno con testera sanitaria e documento di riconoscimento Open Day aperto ai cittadini da 12 anni in su E adesso i titoli dei quotidiani Primo piano Molise, 26 contagi e altri due ricoveri tasso al 7,6% In ospedale due cinquantenni di cerce maggiore, entrambi non vaccinati Il totale degli assistiti in malattie infettive sale a 9 accertati Ulteriori 6 casi a Trivento, 6 pure a Monte Falcone Gli attualmente positivi sono 236, i guariti 24 per l'autorità europea di controllo Il Molise non è più verde al centropagina Novax, gigantografie in città Il Comune prende le distanze Gravina, i 6 per 3 sono gestiti da una società esterna L'amministrazione non ha concesso autorizzazioni Critico il Partito Democratico Il centrodestra resta in silenzio Il punto superbonus, niente dubbi La misura va prorogata Ne parla nell'articolo Il parlamentare dei 5 Stelle Antonio Federico Sanità toma alleanza con i privati Per recuperare mobilità passiva Il Presidente ha riferito per la prima volta all'Aula Da quando è commissario della Sanità Discuterò l'ipotesi con l'Agenas Iserni al voto Circa 500 i candidati Uno ogni 44 abitanti Mentre a Campobasso Lidl nella zona di Colle delle Api Il Consiglio di Stato Riapre la partita In Basso Molise Comunali della Porta e l'Allitto Ci riprovano Caporicci E con la surdo no Riccia Ordigno incendiario Al bar ristorante Due giovani nei guai Lo sport nei tagli alti Con il Campobasso E lo stadio Romagnoli Con 2000 presenze Sabato contro il Taranto Sicurezza Al primo posto Ma dispiace Questo è stato detto In conferenza stampa 700 biglietti finiti In poche ore Vasto Girardi Doppio test amichevoli E domani sfida Al Benevento Primavera Mentre per il Calcio a 5 CLN Cus Molise Sporting Venafro Al lavoro Per il Precampionato Passiamo ai quotidiani Nazionali Che aprono tutti Sulla conferenza stampa Del Premier Mario Draghi Sull'obbligo vaccinale Questo è il titolo Del messaggero Green Pass Per lavorare Sì all'obbligo di vaccino Il certificato verde Sarà esteso Ai dipendenti pubblici E nei settori privati In cui è già necessario Per clienti e utenti Via la terza dose Da fine settembre Pubblico impiego Pronto il contratto Per gli statali Aumenti in arrivo Mentre di politica Parla Alessandro Campi La mossa della Lega Il populismo Che legittima I pochi contestatori Aiuti ai rifugiati E difesa europea C'è l'asse Italia-Francia Draghi Vede Macron L'Europa faccia di più USA e talebani Uniti Contro i terroristi Dell'Isis L'immagine centrale Dedicata Alla partita dell'Italia Ieri sera Mancini riparte Da un pari Chiesa porta Gli azzurri in vantaggio Poi il gol Della Bulgaria La partita Al Franchi Finisce 1-1 Passiamo Al corriere Della sera L'affondo Di Draghi Sui vaccini Si all'obbligo E alla terza dose Dai Novax Una violenza vigliacca La Lega Insorge Noi contrari Il Premier Il Green Pass Verrà esteso E tutti i migranti Saranno immunizzati Poi difende La Morgese Il Governo Va avanti All'interno Il disappunto Di Salvini No alle discriminazioni Poi nel pubblico E nel privato L'idea del certificato verde Per tutti i tipi Di lavoratori Assalto Al Panjshir I ribelli Di Massoud Noi resistiamo Intesa Roma Parigi Sui profughi Afgani L'immagine centrale Invece proviene Da New York La furia Dell'uragano Ida New York Città Sommersa Fiumi d'acqua Per le strade Paura E vittime C'è lo stato Di emergenza Passiamo Alla Repubblica Sia il vaccino Obbligatorio La sfida Di Draghi Il Premier pronto A prevedere L'immunizzazione Per tutti Ma solo con l'ok Di Ema E Haifa Green Pass Esteso E subito La terza dose Via libera Dal PD Silenzio Di Conte Cioè invece Il no Della Lega In nessun paese europeo Dicono Esiste L'imposizione Duello Anche su La Morgese Intanto Il numero uno Della Lega Salvini Contestato Dal fronte Dei Governatori Troppi errori Il punto Affirma di Stefano Folli Due piani Diversi Mentre sul fronte Afghanistan Sassoli Costretti A trattare Con i talebani Sui profughi Non fidatevi Dei padroni Di Kabul L'articolo È di Azada Afgani Poi All'interno C'è anche la politica 5 Stelle Contro Cingolani Perché Torna Il nucleare Lo spettacolo Invece Al centropagina Sorrentino Maradona E il dolore Il film autobiografico È stata La mano di Dio Emoziona Venezia Il fatto Quotidiano Obbligo Vaccinale Draghi Spacca Il governo Forzatura Nessun paese Dell'Unione Europea Impone il siero Anticovid A tutti C'è il sì Del Partito Democratico Italia Viva Il no Invece Dei 5 Stelle Lega Non gli basta Estendere il pass Ma così Sminuisce La campagna Dei vaccini Del taglio alto Stalking Sono viva Soltanto perché Il mio ex Fu arrestato I pericoli Del quesito Radica Leghista Numero 5 Si parla In questo caso Del referendum Il sole 24 ore Rifiuti Di scariche Saurite In tre anni Economia circolare Almeno sei Termovalizzatori Per recuperare Il gap Con l'Unione Europea Sull'energia Degli scarti Draghi Obbligo Per i vaccini La sfida E mantenere La crescita Dice il Premier Le priorità Sì anche A Green Pass E terza dose Poi scuola E riforme E c'è lo scontro Con Salvini Le misure Il Green Pass Dullerà 12 mesi Fondi per controlli Su autobus E metro Il riscatto Così l'Europa È diventato un modello Nella lotta Al Covid Mentre l'immagine centrale È dedicata Alla protesta Coraggiosa A Erat Si parla di Afghanistan Le donne afghane In piazza A difesa Dei diritti Conquistati Lo sport Con la gazzetta Dello sport Che dedica La prima pagina Al pareggio Dell'Italia Ieri contro la Bulgaria Più forte Ragazzi Questo è il titolo Poca grinta Troppi errori Ora C'è la Svizzera Chiesa a gol Ma con la Bulgaria È solo uno a uno Azzurri apparsi Sotto tono Domenica servirà L'Italia dell'europeo Mancini A Basilea Per vincere Eguagliato Intanto il record Di imbattibilità Sono 35 gare Che gli azzurri Non perdono Spinazzola Intanto promette Ritorno presto Poi vinco il mondiale L'intervista Al giocatore Su Sport Week Le altre partite Spagna KO in Svezia E Lukaku Fa doppietta L'Inghilterra Forza 4 Missioni Champions Giroud Intanto è positivo Ibrahimovic Farà gli straordinari Nel Milan Si ferma il francese Per Covid Mentre l'Inter Dzeko E il Tuku Gli specialisti Per l'Europa L'Atalanta Iricic Si ricarica Gasperini Avrà un'arma In più E poi L'ultima notizia Sulla Juventus Allegri Alla ricerca Dei 36 gol Di CR7 Serve un Di Bala Top Adesso diamo Alle 19.30 Questa sera Alle 21 L'appuntamento Con conto alla rovescia Alle 23 L'ultima edizione Del telegiornale E con questo è tutto Grazie per averci scelto A tutti L'augurio Di una buona giornata